Anche i comuni italiani hanno dovuto riorganizzarsi davanti a questa grande emergenza coronavirus. Qui a Collegno abbiamo prima pensato alle famiglie, quindi abbiamo sospeso le rette degli asili nido, abbiamo anche sospeso le notifiche per i verbali della Polizia Municipale e abbiamo per esempio fornito un servizio di educatori per i bambini disabili che non vanno più a scuola, così c'è anche un sollievo parziale per la famiglia in questo tempo complicato. Anche il commercio locale si è dovuto riorganizzare, quindi consegna a domicilio con un servizio anche molto particolare legato alle farmacie. Istituito un numero amico, comune amico, 011 40 15 800, proprio per le persone anziane o sole della città. Io ho visto che tante persone hanno compreso benissimo che occorre stare a casa in questo tempo e mi è sembrato giusto andarle a salutare tutte con un giro con il megafono della città e ho visto una Collegno che resiste, emozionata, che dice che insieme ce la possiamo fare, possiamo uscire da questo momento terribile. Conto su di voi!